Bagari in aula alla Camera per l'approvazione della legge di bilancio. Le opposizioni hanno contestato duramente il Presidente Fico. Oggi la fiducia, domani previsto il via libera definitivo. Il Premier Conte ha difeso la manovra, rivendicato il ruolo di garante del governo Lega 5 Stelle, anche se non ha escluso in futuro sia un rimpasso che modifica il contratto fra gli alleati. Il governo si divide sull'emergenza di violenza nel calcio. Il ministro degli interni Salvini, contrario alla chiusura degli stadi, per Conte serve invece un segnale forte come lo stop alle manifestazioni sportive. Continua l'inchiesta sull'aggressione degli ultraenteristi a un gruppo di tifosi del Napoli. Oggi si torna a giocare con rischio però di nuovi scontri. E torna anche l'allarme e terrorismo in Egitto. Un ordigno esploso ieri sera al passaggio di un autobus di turisti vicino alle piramidi di Giza, nei pressi del Cairo, una delle mete più famose per gli stranieri. Coinvolto un gruppo di vietnamiti, morte 4 persone e 12 feriti. Lutto nel mondo della letteratura per la scomparsa di Amos Oz, lo scrittore israeliano, autore di romanzi e saggi dedicati in gran parte al conflitto. Fra ebrei e palestinesi, da sempre si era abbattuto per il dialogo e la pace fra i due popoli. Si era espresso più volte a favore anche della nascita di due stati. Le sette e mezzo del mattino, buongiorno, benvenuti al telegiornale. Allora, fra due ore riapre la Camera, riprendono i lavori, ma non per discutere nel merito la manovra, la legge di bilancio, che infatti a partire dalle 18 di questa sera verrà votata. Sarà la prima chiama, in realtà per concludere tutto l'iter bisognerà aspettare ancora domani. Ma insomma, la sostanza è che il Parlamento non ha potuto discutere quella che è la legge, che poi determinerà, diciamo così, le politiche del governo per il prossimo anno. E questo, come potete immaginare, ha scatenato i malumori, in realtà più che malumori è anche la bagara, addirittura il Partito Democratico ha fatto ricorso per questa vicenda. Oggi ci sarà un sitino in piazza, ma il governo sembra determinato ad andare avanti. Il voto definitivo sulla manovra economica con il via libera della Camera sarebbe dovuto arrivare oggi, invece ci sarà solo domani, domenica. Ma a Montecitorio, quella di ieri, è stata una giornata di battaglia, caos, spintoni e fogli che volano verso il banco del governo. All'attacco le opposizioni del Partito Democratico e Forza Italia, che accusano. Ma è successo che si arrivasse alla terza lettura della legge di bilancio senza esaminare gli emendamenti, stigmatizzano. La tensione sale, soprattutto quando il deputato Dem Fiano fa arrivare sui banchi dei ministri il fascicolo della legge di bilancio e c'entra il volto del sottosegretario leghista all'economia a Caravaglia. Fiano, comunque, poco dopo, nel corso del suo dervento, si scusa. PD e Azzurri hanno una strategia comune, chiedono lo stop dei lavori per esaminare finalmente la manovra, visto che nella notte il presidente della commissione bilancio Claudio Borghi aveva chiuso i lavori senza discussione. Ma il presidente della Camera, Roberto Fico, non concede nulla e dice non possiamo mandare al colle la legge il primo di gennaio. Al Quirinale, però, guardano anche le opposizioni, con il PD che conferma la massima fiducia verso Mattarella e contestualmente sulla legge di bilancio presenta un ricorso per conflitto di attribuzioni alla Corte Costituzionale, che sarà discusso il 9 gennaio. Il clima resta molto teso, viene convocato alla Capigruppo, ma le minoranze abbandonano la riunione contro quelle che definiscono gravi violazioni costituzionali che hanno caratterizzato l'esame della legge. A quel punto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Fraccaro, pone la questione di fiducia, così come è già avvenuto al Senato. Oggi il voto sulla fiducia, con i deputati DEM che protesteranno in piazza Montecitorio e i sindacati Cigia, Lecisle e Guil, già bollano la manovra come miope, sbagliata e recessiva. E mentre alla Camera si discute la manovra economica, il Premier Conte tiene la consueta conferenza stampa di fine anno. Il Premier difende tutte le scelte di politica economica, poi definisce un'amalgama che funziona alla maggioranza giallo-verde e non esclude nel futuro l'impasto di governo. Ma dopo qualche ora da Palazzo Chigi si fa sapere che non ci sarà alcun rimpasto. In realtà però le voci si sono accavallate in queste ultimissime ore proprio a proposito del rimpasto. Si fanno già i nomi, in particolare quello del Ministro dell'Economia Giovanni Tria in realtà dato in bilico praticamente da sempre e secondo alcune indiscrizioni pronto ad andarsene già all'inizio di gennaio. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo abbiamo sentito il Presidente del Consiglio parla di un governo dove si va d'amore e d'accordo ma c'è per esempio un tema che è quello degli stadi sul quale lui e Salvini la pensano diametralmente all'opposto perché il Ministro dell'Interno Salvini è contrario alla chiusura degli stadi quando si verificano situazioni come quella drammatica dell'altro giorno della partita Inter-Napoli e fra l'altro a questo proposito come sapete ha deciso di incontrare al Viminale quelle che lui definisce le rappresentanze dei tifosi. Vedremo appunto come finirà questa vicenda nel frattempo parallelamente ci sono in corso invece le indagini per scoprire chi ha provocato la morte del tifoso dei Bellardinelli che come sapete prima della partita è stato investito durante gli scontri. Stadi sicuri sul modello inglese o tedesco dove la linea dura dentro e fuori dagli impianti da anni non concede dergue il prossimo 7 gennaio a Viminale si ripartirà da qui dopo la folle notte di San Siro il Ministro dell'Interno Salvini e il Sottosegretario con Delega allo Sport Giorgetti hanno convocato un tavolo sull'ordine e la sicurezza ci saranno per la prima volta insieme i rappresentanti di calciatori, allenatori, arbitri, giornalisti e tifosi solo quelli selezionati dai club però dopo un'apertura più ampia che aveva fatto subito scattare le proteste dei poliziotti il Viminale annuncerà nuove misure contro la violenza tolleranza a zero e una possibile stretta sulle partite in notturna con un punto di partenza quello del Ministro Salvini sull'inutilità della chiusura degli stadi che punirebbe i veri tifosi che in queste ore ha evidenziato anche la distanza sulle possibili soluzioni a cominciare dalla pausa invocata invece dal Premier Conte sulla folle violenza che ha preceduto Internapoli la Procura di Milano sta lavorando su due fronti c'è da individuare il conducente del SUV che avrebbe travolto se volontariamente o meno resta da stabilire Daniele Bellardinelli ma ci sono da identificare gli altri responsabili che hanno partecipato all'assalto potrebbero essere preziose alcune testimonianze finite negli atti dell'inchiesta a guidare la guata degli ultrasanerazzurri due uomini parlavano francese e italiano ad accreditare l'ipotesi che accanto a quelli dell'Inter fossero schierati anche Ultras del Varese e del Nizza una volta accerchiati i supporter del Napoli un convoglio di almeno 14 mezzi tra auto e minivan sono scesi ed è stata guerra sono nove gli ultrasinteristi indagati con l'accusa di rissa, gravata e lesioni sette i provvedimenti di Daspo emessi dal questore tre persone sono già in carcere verranno interrogate oggi dal GIP nelle richieste di convalida il PM ha ribadito sono stati sette minuti di assalto oggi l'allerta resta alta le curve saranno a lutto per il caduto Dede nel codice trasversale degli Ultras Bellardinelli sarà ricordato anche negli stadi dei cosiddetti rivali napoletani compresi andiamo adesso in Sicilia invece c'è lo stato di calamità per le popolazioni colpite dal terremoto lo stato di emergenza durerà un anno ed è stato dichiarato per nove comuni e piedi dell'Etna quelli più colpiti dalla scossa 4.8 di mercoledì notte la decisione è arrivata ieri dal Consiglio dei Ministri che ha stanziato 10 milioni per l'avvio delle prime attività di soccorso e di assistenza alla popolazione una somma che graverà sul fondo per le emergenze nazionali ci vorranno ancora giorni per capire l'entità esatta dei danni ci sono 1250 richieste per i controlli di stabilità concentrate soprattutto intorno alla zona più colpita quella delle frazioni di Fleri, Pisano, Poggio Felice qui 120 case su 170 sono già risultate inagibili in base all'ordinanza della protezione civile firmata dal capo dipartimento Angelo Borrelli per le case lesionate i muti saranno bloccati inoltre è già stato predisposto un contributo massimo di 25.000 euro a famiglia per i primi interventi urgenti per ripristinare in tempi rapidi l'agibilità delle abitazioni danneggiate non gravemente una misura, sottolinea il capo della protezione civile, mai varata prima l'ordinanza prevede anche un contributo massimo per nucleo familiare di 900 euro per l'autonoma sistemazione sono ancora centinaia le persone ospitate negli alberghi molti di loro in realtà potrebbero tornare nelle loro case ma hanno paura ieri durante la riunione della Commissione Nazionale Grandi Rischi è stato annunciato che i dati analizzati mostrano una sensibile diminuzione dell'attività dell'Etna che ha causato le scosse in ogni caso, scrivono gli esperti l'evoluzione di un fenomeno complesso come quello connesso all'attività sismica e deruttiva del vulcano è soggetta ad una elevata incertezza la Commissione non può quindi escludere scenari più severi così scrivono potrebbero verificarsi, specificano se si dovessero attivare contemporaneamente diverse faglie oppure se si attivassero faglie più profonde uno scenario ipotetico che in ogni caso non si può ignorare andiamo all'estero, occupiamoci di quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane in Siria intanto oggi ci sarà un vertice, un vertice molto importante a Mosca fra i ministri della difesa sia turchi che sovietici e russi per discutere della situazione siriana vi dicevo ministri della difesa e ministri degli esteri questo perché sapete qualche giorno fa il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato appunto il ritiro delle truppe americane nella zona ma che cosa hanno fatto i curdi con una mossa sorpresa proprio ieri probabilmente lo saprete hanno annunciato di voler diciamo così mettere gran parte del loro territorio sotto il diretto controllo di Assad quindi dell'esercito governativo siriano in particolare la città di Mangi che è una delle città dove si è combattuta una delle battaglie più cruente contro l'ISIS vinta per l'appunto dai curdi e dallo IAPG e che adesso quindi diciamo così restituirebbe a Damasco diciamo un'area importante di quelle che non erano più sotto il controllo del regime sottraendola invece alle mire turche che a quel territorio ambiva sicuramente l'ISIS però non è sconfitto, o meglio il terrorismo non è sconfitto, ha colpito ieri ancora una volta in Egitto a farne le spese ancora una volta dei turisti sono tre turisti vietnamiti e la loro guida egiziana le vittime dell'attentato terroristico di Giza al Cairo 12 i feriti, si avvicinavano le celebri piramidi quando la bomba artigianale piena di biglie di ferro esplosa al passaggio del loro autobus era stata posizionata da qualcuno che ancora non ha rivendicato l'attacco lungo la strada dietro un muretto che ha parzialmente attenuato il colpo in Egitto torna la paura per la prima volta da anni infatti le mete turistiche più battute dal Cairo al Mar Rosso segnano il pieno con i resort di Sharm al-Sheikh, Urgada, Marsalam tutti esauriti anche grazie alla presenza di migliaia di italiani attirati dal caldo e da prezzi davvero molto bassi per adesso non c'è ragione di cancellare date né escursioni alle stesse piramidi dicono i tour operator anche se il premier egiziano Mustafa Mabuli non teme di evocare una sfida alla sicurezza del paese la farnesina in particolare dopo il caso Regeni include l'Egitto tra le mete più problematiche ma non va oltre le generiche raccomandazioni così come fanno gli altri paesi tranne la Russia che invece dopo l'attentato dell'aereo sul Sinai costato la vita a 224 persone mantiene per i propri cittadini il divieto di recarsi nel paese l'ennesimo attentato alle piramidi rischia ora di tornare a compromettere l'economia del Cairo che nell'ultimo periodo aveva scelto di puntare per il rilancio del turismo sul mercato asiatico dal Giappone proprio in questi giorni sono arrivati un miliardo di dollari da investire nel nuovo grande museo che sarà inaugurato nel 2020 con l'intento di celebrare i faraoni e allontanare lo spettro del terrorismo è morto Amos Oz era un scrittore straordinario uno scrittore israeliano davvero straordinario era anche un uomo di pace che da sempre praticamente si è battuto per la causa israeliana e palestinese era fautore infatti dell'idea dei due stati per far convivere due popoli era un combattente appassionato Amos Oz nato a Gerusalemme cresciuto in kibbutz morto ieri a 79 anni narratore fantastico uomo irrisolto nella sua personale israeliana ricerca della pace critico in ugual misura con amici e nemici Oz ha scritto a livelli oltremodo importanti per più di 50 anni 50 anni dedicati alla cultura da condividere da diffondere ed esportare 50 anni passati sulle barricate con chi si diceva intenzionato e pronto a dialogare con i palestinesi del mondo arabo 50 anni trascorsi con occhio vigile sul mondo un partigiano della cultura sempre in armi con le parole di romanzi e saggi nella guerra eterna ad ogni altra forma di guerra quella dei fucili e delle bombe quella provocata da qualsiasi forma di ingiustizia soffriva Amos Oz senza nascondersi di fronte alle disparità, alle diseguaglianze di un mondo sempre più banalmente diviso in due blocchi ricchi da una parte e poveri dall'altra fattori importanti messi in ordine da Oz spiegati in decine e decine di volumi tra romanzi e saggi tradotti in 45 lingue e venduti in 47 paesi insomma un gigante della sua epoca una delle voci del moderno stato ebraico più ascoltate al mondo oltre che firma di piccoli e grandi capolavori letterari la scatola nera una storia di amore e tenebra romanzo autobiografico e poi ancora cari fanatici di un tratto nel folto del bosco sino all'ultimo lavoro intitolato finché morte non sopraggiunga invecchiando continuava ad arrabbiarsi Amos Oz la politica scriveva è diventata uno spettacolo di intrattenimento grazie ai suoi stessi attori alla stampa servita e cieca anche la possibilità di esprimere un voto non è più percepita dalle persone per quello che è tutto insomma sta trasformandosi in barzelletta purtroppo quella tra Israele e Palestina di sei mesi fa proprio da noi qui in Italia è una tragedia tra due parti convinte entrambi di avere ragione e che invece si ritrovano spesso ad avere torto lo sport dicevamo allora il campionato assolutamente non si ferma anzi oggi si chiude l'ultima giornata del girone invernale a distanza di 72 ore dai tragici fatti culminati con la morte di Daniele Belardinelli e dopo un'internapoli giocata con i nervi a fior di pelle San Siro torna ad accendere i suoi riflettori per ospitare la sfida tra Milan e Spal con il rossone dei bacchettati dall'UEFA per l'acquisto di gennaio pacchettai praticamente bloccati per il prossimo mercato quest'ultimo turno del girone d'andata che per molti non si sarebbe dovuto giocare verrà aperto alle 12.30 dall'impegno casalingo quella sempre più fuggitiva Juventus sosterrà contro una Sampdoria in gran forma proprio Massimiliano Allegri è stato un sostenitore del frontedeno allo stop del campionato pur stroncando ogni forma di razzismo per la sfida contro i blu cerchiati il tecnico bianconero recupera sia Benatia che Bernardeschi vigilia delicata in casa Inter questa trasferta di Empoli si giocherà senza tifosi al seguito prima applicazione della sentenza del giudice sportivo che prevede anche la disputa a porte chiuse dei due prossimi impegni casalinghi sarà questa una delle sette partite in programma alle ore 15 e legata a doppio filo per motivi di classifica a quella dell'Olimpico dove la Lazio in caso di vittoria sul Torino potrebbe consolidare il quarto posto la Roma invece dopo il corroborante 3-1 sul Sassuolo va a caccia di verifiche sul terreno del Parma trascinato dall'ex Gervinio ma con Di Francesco che dopo Gieco e Perotti torna anche a disporre di El Sharawi e Lorenzo Pellegrini alle 18 invece un Napoli con ancora nella testa le scorie di mercoledì affronterà a San Paolo un Bologna in piena crisi Carlo Ancelotti incassata la solidarietà di tutti i suoi colleghi dovrà compensare le assenze degli squalificati culibali e insignia per la cui squalifica di due turni la società ha già fatto ricorso e mentre l'UEFA attraverso un suo comunicato sottolinea il mancato stop a Inter Napoli per gli insulti razzisti rivolti al senegalese il portiere del Chievo Stefano Sorrentino lo ha voluto omaggiare cambiando il proprio nome sul profilo Instagram con quello di Coulibaly bravo e allora visto che è inverno parliamo anche di sci parliamo in particolare della Coppa del Mondo di sci alpino maschile perché c'è una ottima notizia per l'Italia una doppietta primo Paris e secondo Inerofer Ghiaccio bollente per Christophe Inerofer pettorale numero 1 e Dominic Paris start a numero 16 il ghiaccio del Super G della pista Stelvio tra 4 ore sarà rovente a prescindere dalle previsioni che danno comunque una minima di meno 8 perché ributtarsi sulla pista che appena 24 ore prima ha scritto una piccola pagina di storia la seconda doppietta in una libera nel palmarès del nostro sci avrà un significato specialissimo per entrambi Paris, ieri dominatore degli avversari e soprattutto del ghiaccio su cui scaricare la potenza controllata di un fuoriclasse in grado di fare nel momento più difficile la cosa più difficile cercherà velocità ed appoggi per puntare a un bis che avrebbe del leggendario su una pista dove il 29enne Alto Atesino ha già vinto tre discese 2012-2017 e appunto ieri e se il Super G è disciplina meno vicina alle caratteristiche del velocista Paris ha all'attivo un solo successo peraltro sulla Strait di Kitsburi in Coppa del Mondo è pur vero che in questa stagione è tornato sul podio a Beaver Creek meno di un mese fa mentre il Nerofer che di Super G è stato anche campione del mondo e seppure quasi 8 anni o solo vorrà sfruttare al meglio la pista per cercare il quarto podio di una stagione a cui manca solo l'acuto del gradino più alto dopo i tre secondi posti di Ney Cluisi in discesa di Val Gardena in Super G e quello di ieri sempre in discesa a Borneo un ieri che il 34enne finanziere cercherà di trasformare in un oggi ancora più entusiasmante su quella pista stedio che brucerà sotto i suoi sci e allora 7.48 io mi fermo qui c'è Paolo Sottocorona pronto con le previsioni del tempo questa mattina invece alla conduzione di Omnibus troverete Frediano Filucci chi invece domani mattina alle 7 sarà sveglio potrà sintonizzarsi se lo vuole con la rassegna stampa e allora ci rivedremo buona giornata grazie a tutti